la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati iniziamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del mattino l'apertura tagli la rivolta degli scienziati ricercatori in rivolta un colpo allo sviluppo ballabio di TGEM così vincono le lobby il presidente dell'accademia dei lincei politica ipocrita il sud paga il prezzo più alto le regionali in campania forse italia blinda caldoro ma resta l'incognita puglia poi le manovre per una nuova maggioranza la lega fa shopping di grillini e tenta la spallata al senato centropagina lo sport il futuro del napoli a scuola da gattuso in cattedra l'allenatore con 250 ragazzi delle giovanili azzurre i fatti dall'estero terrore a mosca attacco alla sede dei servizi segreti sfida a putin la pista del separatismo ceceno almeno due morti il mistero sull'attentatore la cronaca in italia il maxi blitz in calabria decapitata l'andrangheta nelle mani delle cosche politici e forze dell'ordine di taglio basso la a3 cambia concessionario addio autostrade meridionali battuta la controllata del gruppo atlantia napoli salerno battuta atlantia l'autostrada a3 viene assegnata ai torinesi di sis esce di scena dopo 95 anni autostrade meridionali ma la società controllata dai benetton finita nell'occhio del ciclone dopo la vicenda del crollo di ponte morandi annuncia ricorso è la prima volta che accade occorre comprendere ancora scusate anche il valore politico di quanto verificatosi per l'autostrada che collega napoli a salerno e infine caos turismo vincono gli airbnb la corte europea da torto agli alberghi questa era la prima pagina del mattino in primo piano la politica salvini e la spallata di gennaio nuovi arrivi poi via al governissimo lega a caccia di sette senatori per dare le carte calderolici sarà una buca intorno a conte il piano esecutivo di garanzia per dividere i cinque stelle e spingere il pd a staccare la spina salvini a gennaio si giocherà il tutto per tutto per dare la spallata a questo governo l'allarme scattato forte e chiaro dalle parti del pd mercoledì pomeriggio un minuto dopo la conferenza stampa che ha presentato le firme necessarie per congelare in attesa del referendum il taglio dei parlamentari tutti gli uomini più vicini al capo delegazione dem dario franceschini governista per antonomasia hanno iniziato a mettere in fila i fatti che si susseguiranno i primi 30 giorni del 2020 dal parere della consulta sul referendum maggioritario il 15 fino al voto dell'aggiunta delle autorizzazioni sul caso gregoretti il 20 per arrivare alle regionali in emilia romagna e calabria il 26 i timori del nazareno o almeno di gran parte del pd trovano riscontri nel grande lavorio messo in atto da matteo salvini i vertici della lega si sono divisi i compiti Roberto Calderoli annuncia che a gennaio ci saranno nuovi e robusti passaggi il gruppo del movimento 5 stelle dopo l'arrivo di tre senatori grillini rimane nel mirino della lega si tratta di una questione di appeal se si andasse a votare con il rosatellum racconta Andrea Crippa vice segretario del carroccio noi faremmo il pieno nell'80% degli uni nominari al sud per non parlare del centro e del nord lasciamo questa pagina andiamo a vedere le regionali del 2020 Berlusconi, Blinda, Caldoro ma Meloni chiede spazio il cavaliere è il nostro candidato la campagna tocca forza Italia la Carfagna mi voleva presidente ma quelle associazioni non servono andiamo a vedere meglio le prossime regionali la nascita dell'associazione di Mara Carfagna il rapporto con gli alleati di centrodestra frecciatine al governo è un Berlusconi come un fiume in piena quello apparso ieri alla presentazione del libro di Bruno Vespa perché l'Italia diventò fascista questo è il titolo ma è un torrente impetuoso il suo stesso partito in fermento per la partita delle candidature per le regionali ancora in bilico Stefano Caldoro si avvicina sempre più ad essere ufficializzato per Palazzo Santa Lucia così come pure Iole Santelli in Calabria come ha ribadito ieri una nota in una nota forza Italia eppure gli equilibri del centrodestra sono fragilissimi con Giorgia Meloni che sta provando a far saltare il banco puntando ad imporre un suo candidato anche in Campania i fronti aperti sono molti forse troppi e passiamo ora alla prima pagina del mattino di Salerno apre con la sanità l'ASL ha i creditori patto sui debiti e offre 80 milioni somme non pagate a dipendenti e fornitori il manager così risparmi e stop contenziosi poi l'inchiesta Eboli per la casa del Pellegrino indagati Cariello e 21 politici rimaniamo di taglio alto con le infrastrutture Costa Damalfi e Capodichino un brand unico per l'aeroporto Barbieri due piste di un solo scalo di lato il lavoro concorsone altro pasticcio graduatoria bis dopo gli errori centropagina Crisci vittima di lesioni gravi all'intestino l'autopsia conferma l'ipotesi della procura che parla di colpa medica oggi alle 15 funerali in Duomo la giustizia tribunale il CSM sceglie Ciampa Salerno il presidente Antica Morra poi il caso raffiche di accuse contro la vicina avvocato nei guai si parla di stalking giudiziario di taglio basso la salernitana cerci infortunato sui social il referto medico messaggio ai tifosi faccio chiarezza i fibbiani e stizzito lasciamo il mattino diamo un'occhiata alla prima pagina del quotidiano la città il titolo di apertura giudice sedi disagiate le spine del CSM Ermini vice presidente dell'organo di autogoverno nessuno fa domanda per quei tribunali pensare ad incentivi di carriera a gennaio il nuovo procuratore a Salerno nomine correnti i magistrati ora debbono recuperare la fiducia degli italiani sotto la testata Battipaglia morì a 17 anni sulla strada killer tecnici a processo Salerno addio a Crisci l'ultimo saluto in cattedrale centro pagina salernitana stoccata di Aliberti si va in serie a facendo debiti e sempre sul centro pagina tra il match di Empoli e i bilanci i conti Granata non tornano superingaggi pochi punti di lato scafati tribunali mai pagati tributi scusate mai pagati scattano 20 avvisi cava dei tirreni intesa politici e clan la verità di Servalli poi a Salerno rincari e polemiche sui servizi comunali i calcoli sono errati ancora Salerno creditori dell'Asl dipendenti e ditte in fila per 80 milioni Eboli casa del pellegrino sindaco e consiglieri finiscono nei guai di taglio basso Agropoli Autovelox spunta la multa bis per la stessa infrazione consegnati ai cittadini due verbali e costiera franna e disagio albergatori in rivolta noi vittime lasciamo la città vediamo cronache l'apertura ruggi che batosta tra pianti del rene si chiude la struttura per carenza di attività ad un passo dall'accorpamento con il cardarelli di Napoli si smantellano i reparti vitali con nuovi disagi che si intravedono all'orizzonte per gli utenti sotto la testata udienza clan Zullo il primo cittadino diffidato dal giudice a dire la verità Servalli ingannato da Polichetti Trapanese fu il sindaco a dare l'ok centropagina Cerci attacca la Salernitana l'attaccante contro la società pubblica il suo presenta il suo certificato medico sempre sul centropagina verso le regionali Mara oggi presenta la sua associazione e Maraio apre ai 5 stelle altro strappo di Loia all'Unisa l'Unisa l'Università di Salerno Bara la norma anti Tommasetti sarà vietato candidarsi e poi ebboli indagati sindaco e consiglio nel mirino della procura l'assegnazione della casa del pellegrino all'ISES e infine scafati false dichiarazioni indagati 20 consiglieri c'è anche il sindaco salvati 15 della maggioranza con la prima pagina di crona che termina la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ben ritrovati riprendiamo la rassegna stampa con il mattino andiamo a vedere le regionali Caldoro ok degli alleati manteniamo i patti Cirielli ottimo candidato ma fratelli d'Italia deve avere la Puglia o cambia tutto De Luca gelo sull'ex presidente il mio avversario ne prendo atto prima in bilico poi ufficiale la candidatura di Stefano Caldoro a governatore della campagna per il centro-destra è stata messa in discussione per il veto di Matteo Salvini a Raffaele Fitto in Puglia a quel punto da Forza Italia è dovuta partire una nota formale che ribadisse la candidatura del capo dell'opposizione in regione quanto meno in quota Forza Italia se i dissidi interni non sono affatto sopiti per esprimersi il gruppo di Mara Carfagna attende la presentazione dell'associazione Voce Libera in programma stamattina a Roma sono arrivati numerosi endorsements eppure con toni differenti e con i distinguo del caso il coordinatore campano dei berlusconiani Domenico Desiano si è limitato ad affermare che un centrodestra unito e inclusivo con Stefano Caldoro candidato presidente è un'ottima scelta politica è arrivato dunque il momento di dimostrare la massima coesione interna e una totale unità di intendi per affrontare l'unica vera sfida mandare a casa il peggiore governo regionale della storia della campania come dire il nome lo ha indicato Silvio Berlusconi già da tempo adesso lo ha confermato e quindi ora tocca allinearsi lasciamo la politica con le regionali in campania andiamo avanti rimaniamo sempre sul mattino andiamo a Cava dei Tirreni Polichetti e favori al clan Servalli davanti ai giudici tira in ballo i funzionari festa della piazza e rapporti con gli Zullo parla il sindaco io ho dato solo l'ok chi doveva controllare non lo ha fatto Vietri sul mare tassa di soggiorno per alberghi e case il nuovo software stana 100 evasori Ancava dei Tirreni Anna Rita la scomparsa resta un giallo il parroco e le amiche torna in famiglia Mercato San Severino suo figlio è in carcere spillano soldi alla madre Sarno riscossione dei tributi arrivano i privati e Angri nuovi box per gli animali via al restyling del canile lasciamo questa pagina spostiamoci a Eboli casa del pellegrino indagati Cariello e 21 amministratori la struttura alla nuova è la Ion per la procura e abuso di ufficio parti offese Regione Asl e Don Caponigro che denunciò il caso battipaglia mercatini di Natale tagliati fuori ed è polemica Ponte Cagnano Faiano hotel sotto sfratto sgomberato dall'arma fuori 40 clienti salta scusate il cenone di fine anno Eboli troppi viaggi per curarsi oggi summit col ministro Vallo della Lucania quattro giudici pronti a trasferirsi in tribunale Castellabate acqua rincaro bollette i cittadini si mobilitano ancora Castellabate stalking alla donna sposata paga i danni a lei e al marito lasciamo il mattino andiamo su cronache in primo piano la politica verso le regionali associazione voce libera oggi la presentazione a Roma la forzista ha contattato anche l'economista Carlo Cottarelli l'idea è dare un contributo nel riequilibrare i rapporti di forza del centrodestra attualmente troppo polarizzati sul versante sovranista inizia a prendere forma l'associazione voce libera promossa da Mara Carfagna oggi è il giorno ufficiale della presentazione le prime indiscrezioni riguardano le adesioni di peso Antonio Martino fondatore di Forza Italia ed ex ministro degli esteri il costituzionalista Alfonso Celotto tra i nomi che la forzista ha contattato anche qui l'abbiamo detto dell'economista Carlo Cottarelli che farà parte del comitato scientifico e sempre su questa pagina il partito socialista italiano il segretario Enzo Maraio apre ai 5 stelle alleanza con l'oro per le regionali mai dire mai il consigliere regionale a Napoli dice De Luca e la sua giunta meritano la riconferma per i 5 anni di successi andiamo avanti andiamo all'università di Salerno che cambia il codice i vertici non potranno candidarsi una norma che arriva anche con l'approssimarsi degli appuntamenti elettorali in regione Campania l'università di Salerno pensa alla norma anti Tommasetti il senato accademico ha modificato il codice etico dell'Ateneo su richiesta di alcuni componenti andiamo avanti incontro di fine anno della banca del Cilento 2019 anno complesso ma sono emerse le nostre qualità dati positivi confermati dal presidente Lucibello lavoriamo per il futuro dati positivi di cui i soci possono essere fieri questo è quanto emerso nel corso dell'incontro e andiamo avanti sempre su questa pagina Eboli consegnate agli alunni le borracce contro l'uso della plastica e poi il fatto una scia bianca nel fiume di Sant'Antonio a Polla scatta la denuncia dei cittadini acqua bianca nei pressi del depuratore ed è allarme Eboli rubato carburante agricolo da un'azienda di Campolongo della denuncia della col diretti ancora un furto nelle campagne della Piana del Sele con crona che termina la nostra rassegna stampa vi ringrazio di essere stati con noi vi auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sorrisi